Il Servizio Sanitario Regionale chieda tempestivamente alla Novartis il rimborso delle spese per la vendita del farmaco Lucentis per la cura della vista, dopo che la casa farmaceutica, sanzionata dall'autorità per la concorrenza per aver creato un cartello che ha condizionato la vendita di questi farmaci, si è dichiarata disponibile a rimborsare il 70% della spesa. Lo chiede il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Perrino. Ad un anno dalla mozione urgente, che come spesso accade è rimasta seppellita dai ritardi che hanno caratterizzato l'azione politica della maggioranza pittelliana, Perrino torna a sollecitare, con una lettera alla vicepresidente Franconi, l'intervento della Giunta regionale. A suo parere, attivando il rimborso, le aziende del Servizio Sanitario Regionale potrebbero realizzare importanti risparmi, recuperando somme utili da destinare ad altri farmaci o ad altre prestazioni sanitarie. Basti pensare che la maculopatia, ovvero una delle patologie curate col farmaco in questione, colpisce un anziano su tre, sopra i 70 anni. A poche settimane dalla conclusione di questa disastrosa legislatura, conclude Perrino, ci aspettiamo un segnale concreto dalla vicepresidente Franconi.